buonasera buonasera bella gente ancora buona domenica soprattutto e benvenuti in questa nuova puntata di rossi road con il caro data isa ritt bene ragazzi prima inizia la e come sempre vi ricordo di quanti voi che oltre me c'è sempre tanta bella gente simpatica che abbiamo in live soprattutto abbiamo la nostra bellissima lady laria fa le sai simone con ciò 92 ma tutti 89 no la rob cala sam saracono simon 93 deox panzer ok breve inizieremo figurate quando troveremo anche gli altri ok Grazie a tutti. 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 That sounded painful. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 che abbiamo fatto qui? Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Help! Help! Eh, mamma Ah, mamma I'm losing it here Ah, mamma I'm losing it I'm losing it And die in peace Oh, my God Come on, Daddy needs some new shit I'm losing it 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 Uno dei tonnelli ci aiuti a una strada che connessi direttamente connesso a Henderson. Ho una macchina in mia hatta, in un giangro, in una villa. Uno di loro ciò che vi mostrerò il modo. Perché ti vivi in Halai? Io vivi per servire le persone di Halai. Ma io preferisco vivere con i nativi. Mi ha avuto fortuna di loro. Ci sono una cultura riuscita, e ho imparato molto. So muche, so much hidden knowledge, you see? But I ramble on who must be in a hurry to leave. Agreed. I wish you luck, my friend. Since you're a doctor, maybe you can provide me with some medical supplies. In a rush to escape, I left my notebook back at my clinic in Halai. Io ho usato a mantenere le notizie su come creare medicina di planti indigenosi qui sulle a l'isola. Una volta che ho ho, posso creare medici. Prendete il libro, e poi colete i ingredienti necessari. La clinica è in Halai. Potrebbe essere difficile entrare dentro. Ma il tuo clima... ...e che vedete che ci saranno qualcosa. Travi me più! Quali che trovi! ... Hey! Do you need anything? I need medicine. I don't know what's wrong with me. I've tried everything, but nothing works. My stomach is killing me. Maybe it's food poisoning? Oh, there must be something. Will you help me? All right. There was a medical station not far from here. Everyone was killed when this started, but the medicine should still be there. Please hurry. We're here in a remote village, inland in the Java River, and I don't even know how to describe what's happening here. In fact, I probably shouldn't even be recording this, but it's not the first time I violated proper protocol. Some sort of play against the town. People are panicking. I don't even know what you say and see. See thejas! Sì Eh si può immaginare che fine ha fatto Allora andiamo Arrampamento che è così Ok Allora andiamo Allora andiamo Allora andiamo la WHO sta lavorando su una scuola, grazie a tutti è meglio perfetto, grazie grazie a tutti 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 qui ci sono grazie a tutti I think I know a way to improve our defenses. Those exploding walkers gave me an idea. I think I've figured out a way to make some mines. I can use his remains as an explosive material and build some new mines. Are you interested? Agreed. Get a couple of them to blow up and then collect their flesh. I also need some electronic scraps. Do you have everything? Thank you very much. I won't let you down. Here we go. Need to find that bloke, Marcus. Oh, thanks, doll. People are talking about Henderson. Stay positive. We start losing hope and we'll lose everything. Okay. Okay. Grazie. 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 Buongiorno. Restate positivo. Iniziamo a perdere la speranza e perdere la cosa. Come non ho comprati più tutte queste... Grazie a te. Questo viene in giro. Certo. Buongiorno. a getta hellata here you just let me know if you want me to hold something for you okay I don't want to spend my last some of this stuff might come in hand ok ma che velocità ha sbroccato tutto ok ok ecco fatto ok 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 Ehm... morto. Ehm... Secondo solo, raga. Ehm... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Posso arrivare un'altra volta per il tetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non mi fa scendere il tetto. Grazie a tutti. 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 Mamma mia... Grazie a tutti. Grazie a tutti. No... 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 Sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. You're dead, mate. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 No, 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 no. Cioè entrano e non se ne vanno? Neanche dicono hello? Oooo, that sounds like... Sì, sì. Just one bit. Grazie a tutti. 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 Yeah. Let's see if I can... Grazie a tutti. E se ne è andata la nostra bella fanciulla. Grazie a tutti. Get the fuck down! It's time to die! It's time to die! It's time to die. Hey, do you need anything? Bring me more? Here's what you asked for. In order to do... It's time to do... It's time to die. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, puoi, 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 puoi. Puoi, 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 puoi. Grazie 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 Maggie, we've made it to the treehouse. We have plenty of food and supplies. Tomorrow we're going west. We really hope we can find more permanent shelter. Those things can be everywhere. Grazie Grazie I know you've felt that one. Rai Grazie a tutti Grazie a tutti Come on, this way 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 Come on, get in that dough What do you want? If you're looking for Marcus, he's not here I need to get something from his heart It's very important No one is coming in here My brother is deathly ill Do you understand? Come on, kid, open the gate I don't have time for this We were fine until you people came here Now look what you have done What you have unleashed You want my help? Then you will help my brother What's wrong with him? His temperature keeps changing One minute he has a fever The next he is hit with chills He gets the shakes You bring him some medicine And I will let you eat Sure Once you bring the medicine I'll open the gate You get this, Harlow? I need to play doctor One of the suck And not the fun kind What's going on? Are you injured? Nah, I'm fine I'm still kicking ass And taking names I gotta figure out What's wrong with one of the natives And then treat him Hold on I'll get that to his I need to step to this I need to step to this I need to step to this Grazie